Ciao a tutti, oggi vi do il benvenuto alla prima di una nuova serie di guide che saranno incentrate sul Tamagotchi Music Star. Come vedete ho una neonata che piange qua, è appena nata diciamo, devo ancora cominciare a giocare con lei, finché non premo un tasto lei non diciamo non entra in azione, semplicemente piange perché i suoi genitori se ne sono andati. Comunque il Music Star è l'ultimo possiamo dire dei Tamagotchi Connection così come li conosciamo, è uscito la moto, ok è passata, scusate, è uscito credo nel 2010 o 2009, una di quelle due date ed è l'ultimo ad avere la classica forma dei Connection così come li conosciamo. Il Music Star è anche conosciuto come il modello V6, qua dice 2004 però il 2004 è la data del primo Connection. È conosciuto come V6 anche se un po' impropriamente perché il suo nome è proprio music star. Ed è uscito diciamo in, penso solo in America, non l'ho mai visto commercializzato in negozi europei. Quindi al di fuori del Giappone e mentre in Giappone stava uscendo il primissimo Tamagotchi a colori. Per cui sì, sempre all'estero hanno lasciato diciamo i residui delle idee e hanno fatto le idee belle, ci hanno attuato le idee belle per il Giappone. Comunque il Music Star è molto carino quindi voglio comunque dedicargli una guida. È anche molto complesso per cui vediamo con questa piccolina cosa c'è di nuovo nel menu e sì, possiamo cominciare. È una femmina, che nome le diamo? C'è Harry, non mi ricordo se l'ho già dato a qualcuno ma poco importa. Devo anche attivare i suoni. Eccola qua, come sempre c'è l'icona dell'attenzione attivata perché ci sta chiamando e ha sicuramente bisogno di qualcosa. Prima di tutto attiviamo i suoni, premendo il tasto A e C contemporaneamente e scegliamo suoni. Ok. La prima icona è sempre quella della bilancia per cui abbiamo in questo caso due opzioni. Vedere il giocatore, che siamo noi, con la nostra protagonista. In questo caso è una femmina a zero anni, pesa cinque libbre, si chiama Cherry. Questo è il livello della fame, il livello della felicità, il livello di stress. Chiaramente allora si mangia oppure si mangiano dolci e si gioca oppure il livello di stress è una cosa nuova e unica che ha solo il Tamagotchi Music Star. Praticamente lo stress aumenta e diminuisce, questo influisce sul performance di quando da adulto farà dei concerti. Comunque ve lo spiego più avanti, vi spiego come aumenta e come far diminuire il livello di stress. Chiaramente deve essere il più basso possibile. Torniamo nella bilancia. Queste sono le sue abilità. Ha tre abilità che deve massimizzare il prima possibile, per cui meglio ancora se prima di diventare adulta, facendoli arrivare a 999. Sono tre abilità musicali, l'intonazione, il ritmo e l'originalità. E ci sono tre giochi a cui si gioca per aumentare queste tre abilità. E nel Music Star coi giochi per la prima volta non si guadagnano gochi points, cioè denaro, ma in questo caso coi giochi riguardanti le abilità musicali solo le abilità musicali. Cioè si aumenta solo l'abilità musicale. Questo è il tipo di musica che facciamo. Attualmente rock and roll, non so perché una neonata debba dirci che facciamo rock and roll, perché tecnicamente ancora non suona una abilità, ne ha poche. Si chiama Petici, per cui il nome del personaggio, terza generazione e abbiamo zero gochi points. Siamo la terza generazione perché abbiamo zero gochi points? Perché ad ogni generazione i fondi vengono annullati, per cui tutti i soldi che avete guadagnato con la generazione precedente andranno in fumo. La cosa non è un problema perché andiamo sul cibo, dopo vediamo l'indicatore della bilancia dove ci dicono band, andiamo sul cibo. Abbiamo varie opzioni. L'unica opzione che abbiamo disponibile per sempre e in quantità illimitata è il cibo per bebè. In questa fase mangia solo cibo, cioè no, non mangia solo cibo per bebè. Può mangiare anche le altre cose che abbiamo acquistato al negozio, però finché è bebè e bambino il personaggio può mangiare il cibo per bebè che appunto è gratis, cosa comoda dato che i fondi si azzerrano ad ogni generazione. Per cui il consiglio è quello di far mangiare cibo per bebè finché sono adolescenti. Poi con l'adolescenza possono mangiare il cibo per bebè, però non li sfamerà più. Non solo non gli piacerà, ma non li sfama proprio. Per cui sì, vi consiglio di tenere da parte i pochi fondi che avranno finché non saranno adolescenti. Qua abbiamo sempre varie opzioni, per cui abbiamo il latte per bebè e anche questo è in quantità illimitata e dura per sempre e aumenta la felicità chiaramente, come tutti gli snack nei tamagotchi. E stessa cosa che succede col cibo, cioè con l'adolescenza non aumenterà più niente, cioè anche se le le ho date non succede niente. Per cui dopo dovrete acquistare snack. Bene, direi che diamo un'ultima bottiglia di latte e poi può essere abbastanza. Molto bene, ora che sta meglio non chiama più. È carinissima, con gli occhietti storti. Andiamo a vedere sempre sulla bilancia l'indicatore della band che non abbiamo. Infatti è una cosa che si sbloccherà più avanti quando formeremo la nostra prima band andando a scuola durante l'età dell'adolescenza. Quindi ora occupiamoci delle altre cose sul menu. Questo è un video in cui vi mostro il menu. Questo è il water, il classico flusso d'acqua. Poi ci sono i giochi. Allora abbiamo i giochi musicali, music game, poi gli strumenti e i giochi. Questi ve li spiego dopo. Music game sono i tre giochi che vi dicevo prima per aumentare l'abilità, una delle tre abilità, scusate, musicali. Il primo per l'intonazione, il secondo per il ritmo e il terzo per l'originalità. Per cui singa song si gioca così. Vi faranno vedere una serie di note, una sequenza di note e voi dovrete ripeterlo. Ve lo dice due volte. Quindi era A, C, A. E ha vinto. E questo per dieci volte e diventa sempre più difficile. Posso anche velocizzarlo una volta che, cioè se lo ascolto una volta e mi basta, posso anche premere A o B e poi farlo io direttamente. È molto semplice. Quindi B, B, A. Ok. Vedete che aggiunge sempre più note. Scusate il dito, fino a 6 note. Cioè, suonate il tamagotchi, praticamente. Ok. Vabbè, direi che potrei anche perdere l'ultima. Così, vabbè, avete capito il senso del gioco. E si possono guadagnare fino a 30 punti, mi pare, con i giochi. Per cui 30 punti di quell'abilità. Ecco, abbiamo sbagliato. In questo caso 16 di tonalità. Poi c'è Music Notes, che è un gioco che abbiamo già visto nel... nel Friends Dream Town. Praticamente bisogna selezionare la nota che vedete cadere. Prima che cadano dobbiamo scoppiare la nota. E infatti è uno dei giochi che il Music Star ha preso in pres... scusate, il Tamagotchi Friends Dream Town ha preso in presito dal Music Star. Nulla di nuovo, insomma. Anche qua dobbiamo scoppiarle fino ad arrivare a 100 punti. Le note doppie valgono 2 punti, mentre quelle singole ne valgono 1. Scoppiandone... Arrivando a 100 punti, si aumenta di 30 l'abilità di ritmo. Vabbè, anche se perdo qua non ha importanza. Sembra facile, non lo è tantissimo. Poi da farlo al telefono... non è... l'ideale. Se sbagliate a selezionare la nota, vi toglie il punteggio che quella nota vi darebbe. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Per cui questa è la schermata di vincita. Abbiamo guadagnato 30 punti di ritmo. Ora vediamo l'ultimo gioco, che è quello più difficile secondo me, Soundblock, per aumentare l'originalità. Avete 6 stage. Col tasto A e B vi muovete sui blocchi e dovete spostarvi e arrivare sul blocco pieno prima dello scadere del tempo. Il tempo è segnato su ogni singolo blocco. Questo mi frega sempre, questo schema. Gli schemi si ripetono più o meno uguali. Cambia solo il momento in cui compariranno. Che carina, mi fa troppo ridere. Quella boccuccia tutta, tutta storta. Eccola qua. Concentrata quanto me. Quasi. E vanno sempre più veloci, logicamente. Ah, ho perso proprio l'ultimo stage. Vabbè, 20 punti di originalità. Ok. Questi sono i tre giochi. Adesso. Quindi, quei giochi non si guadagnano gochi points, come negli altri tamagotchi, ma solo punti musicali. Ora, strumenti. Qua avete degli strumenti disponibili. Fin dalla prima generazione. Alla prima generazione ve ne danno uno solo, quando si scrive il primo uovo. E poi, man mano che andrete a scuola, eccetera, vi aggiungeranno altri strumenti. Qua potete scegliere che strumento suonerà il vostro personaggio. Facciamo piano. Ok. E adesso dobbiamo, invece, scegliere un gioco. Perché, allora, abbiamo selezionato il piano, quindi il nostro strumento. Questo è il gioco. È un vestito. Però ogni personaggio ha un gioco diverso, preferito. Per cui vediamo di selezionare, vediamo se le piace l'auto, l'automobile. Per capire se gli piace, dobbiamo andare sull'icona dell'attenzione, no, dell'attenzione, della disciplina, e far giocare. No, perché è malato. Allora, andiamo subito a curare. Scusatelo, ho sorpassato. Sul cesto. Selezionate il cesto. Medicina. È ancora malata. Medicina. Va bene. Penso che avrà anche fame. Allora la sfamo e poi torniamo insieme. Stavamo dicendo che per vedere se è il suo gioco preferito, facciamo giocare. Vediamo. No. No, no. Non sembra contenta. Questa cosa perché è importante scegliere il suo gioco preferito? Perché ci aiuterà a ridurre il livello di stress quando è stressato. O stressata in questo caso. Per cui scegliamo un altro gioco e cerchiamo di capire cosa le piace. Cosa è che abbiamo prima di tutto. Tre giochi. Penso che lo specchio le piaccia perché vedo che i bebè apprezzano molto lo specchio. E il gioco preferito cambia anche dalla fascia d'età e chiaramente a seconda di quello che avete disponibile. Cioè il suo gioco preferito chiaramente verrà scelto tra uno dei tre. E infatti è il suo gioco preferito. Quindi questo ci aiuterà a farla giocare, ci aiuterà a ridurre il livello di stress quando sarà troppo stressata. E quindi è importante sceglierlo bene perché se scegliete quello che non le piace il livello di stress aumenterà di più. Quindi abbiamo scelto, ci siamo esercitati, abbiamo scelto uno strumento, abbiamo scelto il giocattolo. Adesso sulla porta abbiamo tre opzioni. Possiamo o andare via, che però in questa fase non si può, per cui la vedremo nella prossima volta, alla prossima fascia d'età. Allora, andare al negozio, quindi avete come nel familici che non ho per ora, avete il primissimo rudimento di una casa per cui avete degli oggetti, avete una porta. Non è come nei connection precedenti, poi vabbè la cosa sarà sviluppata ulteriormente nelle versioni successive come il Tamatown Tamago e il Tamagotchi Friends. Al negozio possiamo comprare oggetti, però vabbè adesso non ho soldi, quindi non li posso comprare oggetti o cibi o snack, chiaramente. Adesso non li posso comprare perché ho zero Gochi Points e vi direte, ma se io fino all'età adulta non posso avere i Gochi Points perché chiaramente per ottenere, scusate, Gochi Points devo diventare adulto e quindi lavorare, come faccio? Ogni tanto il re dei Tamagotchi o uno degli avi, diciamo, del vostro personaggio vi fa visita e vi regala dei soldi. Più era ricco il vostro avo e più soldi vi lascerà, per cui comunque non morirete di fame prima di arrivare all'età adulta. Però bisogna, ecco, stare un po' attenti. Questa è l'unica cosa del Tamagotchi Music Star. Ora vediamo quest'icona, che è l'icona della disciplina, che abbiamo già intravisto. Allora, il primo è per fare esercitare con lo strumento il personaggio, per cui si esercita e le sue abilità musicali aumentano, oltre che con i tre giochi per le abilità musicali. E quindi, vabbè, si sta esercitando, quando fa così è felice di esercitarsi, molto bene. Quando però è stressato, è stressata lei adesso? Sì, un pochino. Quando è stressato bisogna farla giocare, farlo, se è generico, giocare, per cui abbiamo già visto il pulsante, la opzione, scusate, gioca. Timeout è per sgridarlo quando fa qualcosa che non va, per esempio non mangia se ha fame, chiama se non ha fame, oppure se esercita troppo o gioca troppo. Potete dire di smettere di fare quel comportamento, tipo se è stressatissima e continua a esercitarsi, oppure non si esercita mai, pensa solo a giocare, allora le date il timeout. E invece praise viceversa è per premiare del comportamento, per cui se si esercita ogni tanto che va bene, premiate per farle capire che quel comportamento va bene, per cui tenderà ad esercitarsi. Occhio però sempre a livello di stress. Dato che ha fatto la cacca puliamo, la mini cacchina, grazie. Per cui quelli sono, oltre il solito timeout e praise degli altri connection, anche esercitati e gioca. Poi nel cesto, che abbiamo già intravisto, avete la medicina, quando si ammala. Special è tutte le cose che avete acquistato al negozio, però molte cose in questa fascia d'età non si possono utilizzare. Questa, penso che sia il mio oggetto preferito, può andare? No, non può usare niente quando è bebé. Vabbè, per i cd dovete avere anche lo stereo, per cui se volete acquistare i cd, ricordatevi che prima dovete trovare lo stereo. E i cd sono monouso, li ascoltate una volta e poi mai più. Anche i costumi sono monouso, però li può usare solo da adulto. Make up ha anche monouso, cd. Quindi, lo specchio serve per mettersi gli abiti, per cui se non avete lo specchio e i jeans non potete metterli e non potete truccarvi. Questa è una cosa molto interessante. Questo è un sacco di soldi, infatti l'ho acquistata solo nella seconda generazione e era molto ricca la seconda generazione. È raro da trovare, comunque è un negozio. È un negozio di mia proprietà e in questo caso ci vado, posso vendere, a quanto pare anche con un bebè, posso vendere e guadagnare dei soldi. Vediamo se riusciamo. No, non ha venduto niente. A volte va bene, a volte va male. Riproviamoci. Ed è un altro modo con cui potete guadagnare dei soldi prima dell'età adulta. Non sempre però funziona. Io se premo tasti, no, non cambia niente. No, niente, non vendiamo. D'altronde chi mai comprerebbe da un bebè. E trash è per cancellare uno degli oggetti che avete acquistato, per cui può essere un oggetto, un cibo o uno snack. Non vedo perché cancellarli, a meno che non li abbiate comprati per sbaglio o non abbiate il cesto pieno, diciamo. Perché potete avere un massimo di cibi e un massimo di oggetti. Più di così non potete comprarne. Però vabbè, cibi, come sappiamo, il primo o poi li consumerà. Per cui basta, quest'icona ha posto. Questa ricona per la connessione è per connettersi con altri Music Star o con altri Tamagotchi Connection. Infatti ha una porta infrarossi come gli altri Connection. E purtroppo non posso mostrarvelo perché non ho nessun Tamagotchi che si connette con Music Star. E mettendoli testa a testa potete connettervi. Il Music Star non si connette con tutti i Connection. Infatti si connette con, mi pare, il Familiici, che viene chiamato anche V5, e con il Tamatown Tamagot, che è la versione 7 ed è molto più grande. Infatti, anche se è stato realizzato un altro Tamagotchi Connection in bianco e nero, questo è l'ultimo, come dicevo prima, ad avere questa forma. Ed è l'ultimo dei Connection così come li conosciamo, ecco. Dopodiché ci sarà un'altra generazione di Tamagotchi, come il Tamatown Tamagot, che diciamo è il capostipite dei Friends. Però, vabbè, il Music Star può sempre connettersi anche con quello. Mentre dal V1 al V4.5 non si connette. Insomma, V1 e V4.5 si connettono tutti tra di loro. V5 e V7 si connettono tra di loro. E questo è tutto. Poi, l'ultima è l'agenda per vedere. Il primo è i premi che ha vinto musicali. In questo caso potete vedere le coppe musicali. E se cliccate sopra una di quelle, cliccate, se selezionate una di quelle, e potete vedere che tipo di coppa è. E se premete il pulsante vedete la band che ha vinto quella coppa. In questo caso era il mio primo gruppo musicale, prima generazione. E potete vedere anche il concerto con cui hanno vinto quella coppa. Lei era della prima generazione e gli altri due sono i membri della band. Poi, nella fase d'età successiva, vi farò vedere come si forma la band. È una cosa automatica, però ve la farò vedere. E vi farò vedere anche tutte le altre cose che da bebè non si possono fare. Per cui altre cose che ci sono disponibili alla porta. E cosa cambia a seconda dell'età del vostro personaggio. Mi scuso per il video molto lungo, però Music Star, essendo molto particolare, ha un sacco di cose da spiegare. È molto complesso, effettivamente. Vabbè, questa era la canzone R&B con cui la mia prima generazione ha vinto il trofeo per la musica R&B. E poi ci sono anche le altre, potete guardare anche le altre. Però vabbè, adesso non ci serve farlo. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione. Cherry e io vi salutiamo. E restate sintonizzati per la prossima guida in cui vedremo l'età. La prossima fascia d'età, per cui la fascia... L'età, scusate. Di bambino. Non so se con lei o con la prossima generazione. Vedremo. Vedremo come vanno le cose. Intanto, di nuovo, vi ringrazio tantissimo. E vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie. Grazie.